Se ci fosse un modo per portare il tuo business, il tuo progetto imprenditoriale a livelli straordinari, lo faresti? Se io adesso ti dicessi qual è questo metodo, tu lo faresti? Bene, allora scrivi. Se tu vuoi aumentare il livello del tuo business, devi essere in grado di attuare queste tre cose. Primo, aumentare costantemente il numero dei tuoi clienti in modo automatizzato. Secondo, aumentare la frequenza di acquisto dei tuoi clienti. Terzo, aumentare il profitto che tu hai sui tuoi prodotti, prodotti e servizi. Tu devi imparare a fare queste tre cose. Come si fa? Come si fa? Te lo spiego subito. 110 ore di corsi in aula, 70 ore di sessioni individuali con me. Questa è la nostra business academy. Perché aumentare il numero di clienti in modo automatizzato, aumentare la frequenza di acquisto, aumentare il profitto, non è una cosa che imparerai oggi e domani e soprattutto devi interiorizzarla. Se io ti dicessi che tu puoi vendere i tuoi prodotti a 3-10 volte il prezzo in cui li stai vendendo oggi, perché sul mercato, nel tuo ambito, c'è qualcuno che oggi già lo sta facendo. Sta vendendo a 3-10 volte il prezzo che hai tu. Quindi devi imparare a farlo, perché l'ultima cosa, l'ultima, che dovrai fare se vorrai portare il tuo business a un livello elevato è di fare la guerra del prezzo, che è quello in cui cadono la maggioranza delle persone che fanno business o che pensano di volerlo fare. Attenzione, perché questo percorso che ti ho spiegato è un gruppo ristretto, massimo 10 persone. Non di più. Poi chiudiamo le iscrizioni. Quindi, o nei corsi gratuiti, o nei corsi a pagamento, o nella Business Academy, clicca sul link e vieni a formarti. Perché la cosa migliore che puoi fare è magari puoi prendere una borsa di studio gratuita, magari puoi prendere delle agevolazioni che noi siamo qui apposta per rendere accessibile la formazione. Quindi, prendi la decisione, la decisione migliore per te, investi su te stesso. È il migliore investimento che tu possa fare oggi. Ci vediamo al prossimo video o in aula. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.